Ebbene si ragazzi, dopo il video dei portieri top, secondo video di giornata con i portieri low cost Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special Ebbene si, proseguiamo questa analisi reparto per reparto, fascia per fascia, giocatore per giocatore Stamattina abbiamo fatto i portieri top Ho apprezzato un po' tutti i commenti, sia ovviamente i complimenti, la gioia Tutti coloro che hanno visto tutto il video Ma anche coloro che hanno condiviso la loro opinione in maniera educata Dicendo il perché, appunto, magari aveva una visione differente Quindi bravi, bravi complimenti Ecco, iscrivetevi anche al canale Un bel like, un bel like Fatichiamo per trovare like Perché ragazzi? Perché è gratis Mi confermano dalla regia che è gratis Quindi mi raccomando, mi raccomando Stasera ci vediamo in live Vi aspetto ragazzi intorno alle 21, forse un po' dopo Ok, non mancate che chiederemo del reparto appunto portieri Andiamo avanti e con i portieri appunto low cost E vediamo cosa vi ho preparato Ringrazio ovviamente tutti coloro che stanno supportando il progetto sulla piattaforma tipi Troverete a breve, subito dopo la pubblicazione del video Metterò nella sezione news Diciamo il post appositamente per i file riempiti Molti mi hanno chiesto Ma carmi pubblicherai solo Diciamo quello completo Anche il super light Diciamo riempito Praticamente inserirò anche gli altri Però immediatamente metto quello che sto riempiendo Ok? Ovvero quello completo Potete fare benissimo un copia e incolla Però copiate semplicemente i valori delle colonne Ok? Che vanno inserite Non diciamo incollate completamente tutto Perché potreste copiare anche le formule Quindi state un po' a te Attenti Ma comunque una volta che completo tutto Metto anche le altre versioni Quella super light Ok? Il mantra dovrebbe uscire intorno al 14 Detto ciò Andiamo a prendere il nostro file excel Eccolo qui Ed eccoci con i portieri low cost Ovviamente vi ricordo che sono mie sensazioni Gli indici di appetibilità sono secondo appunto La mia visione di questa stagione Ok? Poi voi potrete dire la vostra qua sotto nei commenti Allora partiamo con la seconda fascia E ho messo in cima agli indici di appetibilità Audero Che secondo me Tra i portieri che si possono diciamo Abbinare Ok? Come magari il terzo slot Forse è il migliore E anche quello che però potrebbe avere Un po' più rilanci Quindi occhio E' valido per il modificatore Valido anche per i rigori Perché Ne ha parato qualcuno In passato E può farlo anche questa stagione Quindi occhio Poi ho inserito silvestri Che è la vera Novità Perché molti ovviamente Metterebbero Cioè Metteranno magari il Cragno O Consigli Milinkovic Savic Ok? Ci sono altri validi portieri Che possono essere sopra Silvestri Perché ho messo Silvestri Dell'Udinese? Perché l'Udinese Tra le squadre che restano È quella che ha il maggior assetto Difensivo Cioè il senso Il miglior assetto forse difensivo Nel senso che Veramente si chiudono Anche in maniera compatta Tendono spesso A non subire gol E poi Se ci riescono Magari a farlo Quindi secondo me Per questo motivo Potrebbe subire Meno gol E costare anche meno Infatti il prezzo L'ho messo Magari l'Umbercento Potrebbe avere per lui Ci sarà qualche rilancio E ci sarà Per Silvestri Però non magari quanto Per Cragno Consigli Audero Ok? Quindi occhio Poi Cragno Validissimo Per modificatore Ok? Portiere Che per chi è il modificatore Anzi è mostruoso Prende spesso Buone prestazioni Fa buone prestazioni Quindi Prende buone valutazioni Per lui però Ci saranno Tanti rilanci Qui ci sono Vari abbinamenti Interessanti Sia col Col Sassuolo Soprattutto Ne abbiamo anche uno Con l'Udinese Il Torino Ce ne sono Altri abbinamenti Anche con le squadre Big State attenti però A quanto lo pagate Io mi manterrei Sul 2% Poi dipende Appunto con chi Lo abbinate Poi Consigli Che l'anno scorso È stato Uno delle migliori Sorprese Per quanto riguarda La porta Perché ha preso Spesso Buone valutazioni E in più Ha subito Meno gol Magari del previsto Ora Questo però Potrebbe far Levitare un po' Troppo Il prezzo Quindi io Starei un po' Attento Anche perché La difesa Comunque che ha davanti Non è proprio Una delle migliori Quindi C'è anche stato Il cambio D'allenatore Potrebbe far bene Anche questa stagione A livello di modificatore Ancora valido Però Comunque State State un po' Attenti Ok State un po' Attenti Poi Sirigu Algenua Buono per Modificatore Però Sinceramente Non ci sono Ne tantissimi Abbinamenti Interessanti Per lui E in più Non è che mi fidi Così tanto Della difesa Del Geno Ma Rassi Ogni tanto Vengono un po' Di partite Un po' Pazze Certo è Che A un costo Contenuto Dell'1% A pochi crediti Ci può stare Come terzo slot Oppure con un Abbinamento Intelligente Poi Milingovic Savic Attenzione perché Qui È uno dei giocatori Più Interessanti A livello Di allenatore Che c'è Alle spalle No Juric Che potrebbe far Rendere bene A livello Difensivo La squadra Il Torino Solo che Milingovic Savic Non mi piace Come portiere Ragazzi Personalmente Non lo ritengo Affidabilissimo Ogni tanto Secondo me Farà qualche Pavera Insomma Potrebbe Non prendere Buonissime Valutazioni E in più C'è Beriscia Al Torino Che potrebbe Quindi insidiarlo Un po' A livello Di titolarità Abbinato Forse All'azione Roma Può essere interessante Se lo pagate poco Io ho messo Un percetto Ma di sicuro Verrà rilanciato Anche di più Ok Al 2% Qui infatti Potrei benissimo Mettere qui Un 2% Perché Sarà Probabilmente Il suo costo Mettiamoglielo Perché Secondo me Qualcuno Lo rilancerà Un po' Di più Poi ho messo Montipo Un indice Di appetibilità Intorno al 70% Perché Il portiere Si bravino In alcune partite Però Non è proprio Costante Ok Qualche Pavera Magari La può fare Però Ha dei buoni Abbinamenti O meglio È un buon Terzo slot Da abbinare Ad esempio Al Napoli O all'Atalanta Magari Prendete il primo E il secondo Del Napoli O dell'Atalanta E poi Un Montipo Come terzo slot A pochissimo Ci può anche Stare Ok Non credo Che il Verona Avrà la stessa Solidità Dell'anno scorso Però Non sono neanche così Cioè Non faccio una tragedia Come molti Dicono Ah Di Francesco Il Verona Adesso subirà Una valanga di gol Di sicuro Ne subirà Magari O meglio Probabilmente Ne subirà Di più Dell'anno scorso Però Come detto Come terzo slot Ragazzi Come terzo slot Poi terza fascia Sono i giocatori Per i quali Non fare quasi Nessun rilancio Se non Forse per Skorupski Per completare Alcuni magari Abbinamenti Ok Perché è ben abbinato Il Bologna Ha diverse squadre Però comunque Mi manterrei sempre basso Ok Un buon abbinamento Soprattutto con la Fiorentina Ti permette di fare Diversi pacchetti interessanti Mentre gli altri Belez Della Salernitana Tra le neopromosse È quello che mi ispira di più Perché la Salernitana Diciamo Ha un buon assetto difensivo Forse anche l'unica Che utilizzerà Probabilmente La difesa A3 Insomma Magari Ben abbinato Qualche partita Casalinga Contro altre piccole Magari Uno ci può pensare Però comunque Parliamo soprattutto Per Diciamo Lo costo Almeno i giocatori Da farci La plus valenza Stesso discorso Poi per Vicario Per Zoet Che dovrebbe Forse essere Il titolare Dello Spezia Perché c'è anche prove Io ho messo ovviamente L'asterisco Che indica Il ballottaggio Vi ricordo Lezzerini Diciamo più costosi Più costosi Se andate a prendere Magari Un big Ok Poi Per quanto riguarda Le scommesse Come vedete C'è Stracoscia Ospina E Perin Perché ho messo questi nomi Tra le scommesse Io nelle scommesse Metto quei nomi Che magari Possono Ricevere dei rilanci Ok Potrete magari Fare dei rilanci Anche se Il primo slot L'ha preso Qualcun altro Potrete Eventualmente Insidiare Magari Fargli qualche rilancio Perché Potreste Rubarglielo E magari Qualche partita Questi portieri La faranno Stracoscia Addirittura Potrebbe essere A lungo andare Magari Il titolare Non è detto Appunto Che sia Per forza Reina Avremo indicazioni Magari Delle prime giornate Per chi farà L'asta Poi a settembre Mentre Ospina Stesso discorso Farà un buon numero Magari Di partite E quindi Ovviamente Un po' di rilancio Lo si può fare Anche Per Perin Che magari Farà le partite facili Quindi potrebbe Anche beccarsi Qualche imbattibilità Però Non dovrebbe giocare Così Un grandissimo numero Di partite Quindi Non spingerei Troppo Ragazzi Un per cento Qualche credito Al posto di andarvi A prendere Magari Un super low cost Di terza fascia Potrete magari provare Arrobacchiare Uno di questi nomi A chi ha preso Il primo portiere Ok Altrimenti Glielo lasciate Però un prezzo Poi più Più alto Va bene Questa è l'analisi 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 Sui low cost Ok Spero appunto Non prendiate Questi nomi Nel senso Il mio consiglio È ovvio Di prendere Se potete I top E i semi top Se dovete Fiondarvi Perché i prezzi Dei top E semi top Hanno veramente Prezzi assurdi E allora Dovete costruire Dei pacchetti Low cost Affidatevi Alla tabella Abbinamenti Ok Mi raccomando Stamattina Vi ho anche Fatto capire Come si andrà A muovere Anche durante L'asta Compilando Il tabellone Si andrà Poi a modificare La tabella Degli abbinamenti Quindi Mi raccomando E poi ovviamente Qui c'è Il solito Pacchetto Tre crediti Quello che è diventato Un meme Ormai sul canale Ovviamente Sconsigliatissimo Da fare Però Qualcuno mi ha detto Che lo vorrebbe fare Io forse lo farò In un fantacalcio Dove magari Non c'ho nulla In palio Ecco Così solo Per divertirvi Va bene Detto ciò Ragazzoli Io vi auguro Un buono studio Adesso il file Lo vado a caricare Nella sezione Appunto News Di tipi Quello appunto Con Tutti i portieri Già inseriti Ci vediamo Stasera In live Mi raccomando Non mancate In teoria Sarà verso Le 21 Prima su youtube Poi ci trasferiamo Anche sulla Sulla piattaforma Viola Cos'altro devo dirvi Niente Di seguirmi sui social Soprattutto instagram Ok Di passare dai link In descrizione Ok Ci sono tanti link Utili E niente Vi auguro una buona Giornata Da carmi special Mi raccomando Like Commenti E condivisione Ciao